Ma DeGiro presta i tuoi titoli. Bentornati sul canale. Questo video è una postilla ad altri due nostri video, profili account disponibili su DeGiro e short selling. Cerchiamo di affrontare la questione del prestito titoli in modo dettagliato in questo video, dato che l'argomento sta particolarmente a cuore ai nostri amici esposti su GameStop. Vediamo quindi la risposta alla domanda se DeGiro presta o no i nostri titoli. Come ogni buona questione complessa che si rispetti, la risposta dipende. La prima distinzione la si ha in base al tipo di profilo. Se infatti scegliamo il profilo Castori, siamo sicuri che i nostri titoli non verranno prestati. Questo profilo ha una catena di custodia differente rispetto agli altri profili, pertanto non è data la possibilità a DeGiro di prestare a terze parti i titoli che noi deteniamo nel nostro portafoglio. Se avete quindi un profilo Castori potete stare tranquilli perché i vostri titoli non verranno prestati in nessun caso. Non è detto che sia così invece per gli altri tipi di profilo. Il prestito titoli su DeGiro è infatti una caratteristica intrinseca e non disattivabile degli account Basic, ActiveTrader e DayTrader. Questi account danno la possibilità a DeGiro di prestare i nostri titoli a terze parti. Ma non stracciatevi ancora le vesti, i nostri amici amanti di GameStop e AMC possono in realtà stare tranquilli. Vediamo adesso il perché. Come visto nel video dello short selling vi sono delle limitazioni specifiche per la piattaforma DeGiro. Sulla piattaforma infatti non si può fare short selling se le azioni che vogliamo shortare sono americane anche se negoziate su borse europee. Queste si possono identificare andando a vedere l'easing. Se l'easing comincia con US questa azione rientra in questa categoria. Non si possono shortare titoli con categoria di rischio D. In più vi sono altre limitazioni allo short selling su altri titoli su cui il dipartimento di rischio di DeGiro pone delle restrizioni. Queste limitazioni sono la chiave per capire come mai se avete GameStop o AMC in portafoglio potete non preoccuparvi del prestito titoli. GME ad esempio è sia un'azione americana che di categoria D pertanto non è shortabile sulla piattaforma DeGiro. Se non è shortabile significa che non può nemmeno essere presa in prestito e quindi se l'avete in portafoglio nessuno ve la toccherà. Potete quindi non preoccuparvi del prestito titoli in questo caso specifico. Ciò che dovete portare a casa da questo video è che se un'azione non è shortabile questa significa che non verrà nemmeno prestata. Se hai trovato valore in questo video metti mi piace e iscriviti al canale. Se hai qualche dubbio domanda lascia pure un commento e ti risponderemo il prima possibile.